Get the cold, get the cold to shine, get the cold Nuova rubrica e nuovo film in concorso, tutto per i nostri giovani giurati e voi siete pronti a casa? Tre dodicenni, Rick e Maya e Ona, ozziano davanti al ristorante della famiglia di Ona fino a quando la polizia non trova della droga nascosta nel ristorante così decide di chiuderlo e arresta il fratello di Ona Una nuova missione per le Easted Angels, fatta di inseguimenti, colpi di karate e di involtini primavera Una storia importante e avventurosa per combattere le ingiustizie Secondo me è un'ingiustizia il maltrattamento degli uomini di colore Secondo me è un'ingiustizia quando qualcuno se la prende con i più deboli anche se ricopre un'autorità non è giusto che se la prendi con i più deboli Secondo me un'ingiustizia significa che qualcuno ha fatto male a un suo amico o un animale oppure ruba qualcosa e fa male alla sua comunità Per me un'ingiustizia è quando ci sono persone che hanno tutto e altre che hanno niente Per me l'ingiustizia è che alcuni bambini possono avere tutto e altri niente Per me l'ingiustizia è andare tanti anni a scuola invece di divertire Ciao Mucopallino Ciao Mucopallino Ciao Mucopallino Ciao Mucopallino